Interrogati su diversi temi hanno posizioni diametralmente opposte, ma c'è qualcosa sulla quale la pensano alla stessa maniera. L'onorevole Luigi Vitali e il consigliere regionale Oprevio Curto, interrogati sull'ipotesi della istituzione della regione Salent, rispondono positivamente. Vitali si è ricreduto negli ultimi tempi, Curto invece è un vecchio sostenitore di quest'idea, il risultato però non cambia. Io sono assolutamente favorevole, dico subito che sono diventato favorevole recentemente perché ero contrario, ritenevo che l'unità della regione Puglia dovesse rimanere intatta soprattutto per le sfide che ci attendono sul federalismo, sui fondi comunitari. Però avendo notato una baricentricità di questa regione, avendo notato un disinteresse, la regione finisce a Bari con una disattenzione pertanto quindi se lecce che hanno origini comuni, che hanno tradizioni comuni, che hanno culture comuni, io ritengo che proprio il federalismo invece di essere un peso a questa regione del Salento possa essere un'opportunità. Ho apprezzato subito l'iniziativa promossa da Paolo Pagliaro, che credo sia un'iniziativa che guarda veramente oltre. Lo disse anche direttamente a lui, lo disse al patron di Telerama, che apprezzava questa iniziativa che peraltro io avevo cercato di sostenere molti anni fa. Nel 1997, come posso dimostrare con alcune copie del Salento, che era appunto un mensile che curavo io personalmente, nello spiegare i motivi per cui avevo dato questa denominazione a questo foglio, sostanzialmente collegai questa scelta con la capacità di quest'area territoriale di mettere insieme delle particolari culture, delle particolari sensibilità, dei particolari fattori economici e geografici che la differiscono completamente per esempio dall'area barese o dall'area della daunia. Ma c'è di più. Quella della regione Salento è un'idea trasversale, dove il trasversalismo in questo contesto assume un'accezione più che positiva e un valore aggiunto. È la dimostrazione che questo progetto non ha una colorazione politica. Ha c'è sostenitore e infatti il senatore dell'Italia dei Valori, Giuseppe Caforio, che sul tema si dice oltransista. Posso richiamarmi oltransista in questo senso, perché io credo di essere stato il primo a parlare in termini provocatori già nel 2006 di regione Salento. In campagna elettorale del 2006 io mi sono permesso da cittadino della strada, perché così arrivavo in politica, di parlare appunto rispetto a quello che veniva perpetrato contro Brindisi, ma non solo, le varie province, soprattutto del Salento, di parlare appunto di stacco ed eventualmente di una regione grande Salento. Io sono perfettamente d'accordo. Più moderato il senatore del PD, Salvatore Tomaselli, che parla di una provocazione utile. Utile se serve a fare in modo che qui davvero, insomma, Brindisi, Ricci e Talento integrino attraverso un processo anche di lavoro comune. Innanzitutto, secondo me, le infrastrutture. Quello che fa grande un territorio sempre di più sono le infrastrutture. Ma il senatore di Bersani è pronto a ricredersi o comunque a farsi convincere. Quindi, insomma, a chi vuole portare avanti questo progetto ha da lavorare molto, secondo me, poi magari mi convincerà pure. Insomma, la discussione è sempre più accesa. L'istituzione della regione Salento come possibilità di sviluppo di Brindisi, Lecce e Taranto contro il baricentrismo, che in questi anni ha concentrato su di sé quasi tutte le risorse economiche, è un progetto più che praticabile. Si gettano le basi per costruire il cammino che porti poi al referendum. Perché è giusto che alla fine siano i cittadini di questo territorio a decidere, che lo ricordiamo, conta oltre 1.800.000 abitanti più di altre regioni d'Italia.